Vabbè, quindi Firenze mi porterai a Pontevecchio? Ma no, dai! Firenze, uffizi! Ma no, dai, ci va Angela, ci va già Angela, fa tutto con tutti questi mezzi, con tutte queste cose, figurati se noi ci mettiamo lì ad andare nello stesso posto dove va Angela. Vabbè, niente uffizi, niente Pontevecchio o Santa Maria Novella? No, no, ti porto, no, troppa gente, ti porto da un'altra parte, da un'altra parte, perché voi, turisti per caso, sapete benissimo che Firenze è piena di misteri che solo noi possiamo farvi vedere. Quindi guardate la puntata il 4 sabato, adesso praticamente. Alle 12.30 su Rai 1, prima del TG. Oh, sono su Rai 1, oh, sono su Rai 1. Ma tu sei stata su Rai 1? Solo con Ballando con le stelle. E quindi guardatemi su Rai 1, con tutti, insomma, chiamate tutti perché ci guardino. Su Rai 1 e appuntamento al 4, al 4, sabato, alle 12.30. 4 giugno, 12.30, Rai 1, prima del TG, quindi prima di mangiare, precisi, mentre preparate il pranzo. Viaggiate insieme a me a scoprire delle cose. In viaggio con la zia. Di grazie zia. Grazie zia. Non è mio nipote, eh.